code of war numero 2 nuova partita parte giri andiamo a vedere missione raccogli potenziali e tiro via battaglia iniziamo nuova marva casuale battaglia ci siamo ragazzi code of war 2 striker zone un gioco gratis che possiamo trovare nell'app store divertente per passare il tempo e comunque diciamo la verità non è male perché ho già notato che alcune persone poi la pensano anch'io come anche se non c'è questione di chat di parlare o meglio non molti lo fanno ma ti diverti quando ti incontri perché ormai riconosce il nome quindi dato che io sono più per la versione sniper in questi tipi di gioco mi piace quello che è sparare alla distanza cercando di compiere quanti più morti possibile come questo come il bombenje bonjour che non saprei come pronunciare quindi il cirillico ancora non so leggerlo passiamo alexandrina 32 mio compagno di questo lo uccidiamo per la e qui abbiamo distrutto anche azerbaicana quindi andiamo a fare un veloce che lui se mi ricordo bene era messicano anche lui messicano l'abbiamo già fatto fuori ma questo sta bene e qui inizia il nostro allora tom 447 ancora non me lo sono fatto è per fare intendo non me lo sono bello che ammazzato quindi qui c'è che perché le abbiamo già dato il primo colpo questo non funziona per cavolo di problemi e per sempre cavolo di lag non c'è un colpo alla testa che per esce di lì allora sì il caricatore perché sta ricaricando quindi via e tom 447 li abbiamo andato già un po di colpi e via e non posso far partire quello che la bomba sempre per il difetto di questo però grazie ci ha pensato lui qui abbiamo che lo facciamo fuori un'altra volta e perché noi aiutiamo i compagni tom 47 ammazzato sì lo vediamo bello adesso andiamo qui ciao cavolo andiamo a prenderci questo 447 se è andato di lì di qui non ce l'abbiamo quindi adesso dobbiamo aspettare stiamo 447 e che per stampa sempre di qua quindi questo è uno ok poi l'africa safari ne vuoi andare e lì abbiamo che non posso fargli molto perché ecco che c'è sempre il famoso errore che odio perché tu stai tranquillo manca poco qui abbiamo che fe e per me l'hanno tolto di mezzo a scarno a scarno a secca pappa e ma fare un re lo ad abbiamo tom 447 e fe che sta arrivando da questo che mi dispiace per te ma tu si vai anche abbastanza velocemente questo non hanno già tolto che io vi aggiorno con lui e 5 facciamo un re lo ad aspettando che arrivano un po di giocatori della parte rossa che ci hanno dovuto aspettare la cazzo di bomba e allora sei pirla se devono essere c pirla nel mio team quindi abracadabra non va bene non si può morire per bomba c'è per bomba sta bene una volta ma quando è finito lo stress rilassati e vedi cosa c'è via lui è buono si sta muovendo bene dobbiamo aspettare adesso un chefe dove allora ragazzi concentriamoci io mi punterei questo vediamo se riesco ok questo perfetto poi chi è che mi stava cercando di sparare ragazzi dai si chiama protezione a meno che non sei come tom 447 tom 447 va bene se tu non sali io mi metterei qui e ti direi che vado ma no cavolo pensavo di sparare un 810 a 450 squadra green angelo ha fatto solo 385 c'è da dire che c'è ma che è stato anche uno abbastanza bravo ha fatto 255 ma abbiamo vinto ancora una volta quindi ok code of war 2 strike zone ci vediamo alla prossima partita grazie a tutti